Fin da subito ho accettato di essere coinvolto su questo progetto, secondo me molto fondamentale per la sostenibilità ambientale del nostro territorio. Credo che l'impegno che tutti quanti noi metteremo qui e che passino i più grandi sarà sicuramente abbastanza importante per le nuove generazioni. Lo dobbiamo soprattutto a loro.